Quante volte ho voglia di mollare non sai quante Forza e Coraggio ha una gestazione creativa sicuramente antecedente tutta questa pandemia che abbiamo vissuto è una canzone molto personale e credo che sia stato questo il motivo per cui ho accettato la richiesta di Humanitas ovviamente l'ho accettato intanto per la mia profonda gratitudine per quello che loro avevano fatto per me chiaramente però sarebbe stato più difficile per me accettarlo se io non avessi già avuto qualcosa che pensavo potesse in qualche modo rispecchiare una situazione questa cosa si basa sulla verità e quindi una delle verità è il fatto che questa canzone per me era sincera perché l'ho scritta per me stesso e poi decido di donarla il testo si è generato tra gli scatoloni della mia nuova casa di quello che poi sarebbe diventata la mia casa perché lo è tutt'oggi perché mi sono trasferito a Milano da Roma a cavallo tra il 2016 e il 2017 e sono venuto a Milano per rimettere in piedi tutta la mia vita perché in quel momento c'erano tante cose che da che andavano benissimo avevano smesso di andare bene quindi lavorativamente, sentimentalmente, umanamente quindi avevo proprio bisogno di mettere un punto e andare a capo Milano è stato il mio punto e a capo e Forza e Coraggio è stato il mantra che mi ha accompagnato nei momenti in cui ti sembra impossibile tutto anche togliere dei libri da uno scatolone per metterli sopra una menzola Forza e Coraggio è la canzone delle mie difficoltà però poi credo che siccome siamo tutti parte di un macrocosmo mi sembrava che poi questa canzone potesse in qualche modo assomigliare sia ai miei momenti difficili successivi perché poi proprio nei momenti in cui stavo incominciando a rimettere in piedi la mia carriera tramite Caramelle il turco Idiar Jack ci si è messa di mezzo la salute quindi ho dovuto di nuovo fermarmi stavolta non per contingenze discografiche ma per motivi fisici e nel momento in cui finalmente abbiamo ricominciato a lavorare sul disco si è fermato tutto il mondo quindi è chiaro che Forza e Coraggio ha accompagnato dei momenti sempre in cui la domanda più importante era ce la faremo a ricominciare da qui perché poi la vita ti mette sempre di fronte a una serie di interruzioni di strade e di percorsi alternativi ecco quello è stato un momento in cui più che alla spiritualità mi sono aggrappato alla grinta dopo ho avuto quando la cosa ho scoperto che avrebbe avuto degli strascichi non tanto sulla mia salute ma quanto su alcuni aspetti del mio corpo insomma dove alcune cose non potrò farle non nella maniera naturale per via di quello che ho dovuto subire lì magari è subentrato l'aspetto un pochettino più filosofico di tutta la vicenda ma nel momento in cui ho scoperto la malattia la mia reazione è stata ok mi metto in tuta e vado in palestra ed è quello che ho fatto perché avevo bisogno di grignare i denti di mordere qualcosa ho aggredito la malattia per non farmi aggredire dopo è arrivata anche la fase delle riflessioni però è stato sicuramente dopo l'intervento chirurgico che mi sono concesso il lusso di pensare a livello introspettivo che cosa sarebbe cambiato in me da lì in poi ma prima dell'intervento per me è stato solo aggressività quella è stata una condizione che mi sono dovuto quasi cercare l'amore delle persone può risultare soffocante ma le persone non lo fanno apposta lo fanno perché ti amano e perché hanno paura per te in quel momento e per me a volte tutto questo amore era un po' soffocante perché a volte volevo volevo starmene per i fatti cioè volevo concedermi il diritto anche di essere brutto di essere sfatto magari non avevo voglia di parlare volevo starmene davanti alla tv o volevo mettere la musica a palle quindi invece quando sei in un sistema sociale chiaramente per quanto tu ti possa arrogare dei diritti perché ti puoi dire dentro di te io sono il malato e quindi gli altri si devono adeguare a me non è mai una condizione che riesci a viverti fino in fondo quindi c'è sempre quel mezzo occhio che cerca di strizzare all'ambiente per capire stanno tutti bene sono tutti a posto stanno tutti comodi e quindi casa mia poi io vivo da solo da tantissimi anni e sono proprio un solitario quindi nella misura in cui già sto male per i fatti miei e devo affrontare delle cose importanti casa mia era diventato un accampamento di parenti ripeto tutti mossi dalle migliori intenzioni e anzi non smetterò mai di ringraziarli perché comunque credo che affrontare queste cose da solo sia molto più triste mi rendo conto che magari tutte quelle persone che non solo stanno male non hanno neanche nessuno a cui appoggiarsi però sono tutte cose cui riesci a pensare dopo col senno di poi adesso perché te ne parlo però sul momento sai siamo tutti umani io in quel momento avevo sentimenti contrastanti emozioni così tanto divergenti che a volte mi sentivo anche comprimere la mia bolla prossemica sono esseri umani ci dimentichiamo di questo ad esempio mi sono reso conto che l'oncologo che mi stava curando stava anche curando suo padre cioè lui ha diagnosticato un tumore a suo padre e poi quando gli ho detto che anche il mio si era malato insomma sono queste le cose che poi spesso si tende a dimenticare cioè uno vede un dottore come uno che freddamente ti dà una diagnosi a volte magari una sentenza di morte ma non è così cioè loro semplicemente sono più abituati di noi alla condizione mortale dell'essere umano noi ce ne dimentichiamo perché chiaramente non facciamo altro che vivere a cento all'ora ci dimentichiamo della nostra condizione mortale su questa terra ma è normale che sia così quindi noi lo sappiamo ne prendiamo atto nel momento in cui non lo so a 14-15 anni iniziamo a scoprire il concetto di vita e di morte però non è che sappiamo che è lì ma invece i medici ogni volta che si mettono la loro divisa di lavoro tra le loro regole c'è il fatto di considerare la mortalità dell'essere umano però loro sono più abituati a questo e quindi magari noi li vediamo come razziocinanti rispetto a una cosa che invece a noi ci fa gridare al dramma però credo che loro soffrano e a volte soffrano anche di più per questo perché io appunto ho scoperto che mio padre sta male e ci sono stato chiaramente malissimo ma pensa cioè mi sono immaginato per un attimo nel corpo di un oncologo che ha le lastre in mani e quindi le sa legge legge le lastre di un padre e deve dire a un padre che deve combattere una battaglia difficile che non è detto che vinca ecco questo ho imparato in questo periodo forza e coraggio chi non si arena ma il marre in baggio e non mi ha avuto mai forza e coraggio forza e coraggio